Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale dei minorenni di Caltanissetta ha accolto la richiesta di scarcerazione per uno dei due quindicenni accusati di aver torturato e sequestrato un ragazzo di 13 anni nel quartiere Badia il 7 settembre scorso nel capoluogo Nisseno. È stato Massimiliano Bellini, legale del giovane che in questo periodo è stato detenuto nell'istituto penale per i minori di Palermo, a presentare la richiesta. Il quindicenne sarà sottoposto all'obbligo della permanenza a casa. Secondo l'attività investigativa il giovane avrebbe attirato con la complicità di un amico il tredicenne all'interno di un garage con l'inganno. Il ragazzino sarebbe stato legato a una sedia con la bocca tappata dal nastro da imballaggio. Inoltre sarebbe stato intimidito con un coltello schiaffeggiato e minacciato di dargli fuoco cospargendolo di olio per motori. Dopo un'ora e mezza sarebbe stato liberato e minacciato di morte qualora avesse rivelato quanto accaduto.